Andrea Signorello, attore protagonista del film Balling Giovani Ragazzi, da dove vieni e quanti anni hai? Buonasera a tutti, vengo da Torino e ho 17 anni. Parlaci di questa esperienza, è stata una vera sorpresa vederti sul grande schermo per questo lungometraggio, un'esperienza sicuramente molto impegnativa. Esatto, impegnativa è la parola esatta, per realizzare Balling abbiamo speso davvero tanto tempo, però il risultato merita, merita veramente. Quando hai ricevuto questa proposta come hai reagito? È stata un'emozione indescrivibile in realtà perché è un sogno che avevo nel cassetto sin da piccolo. Qual è stato il momento più difficile, il momento più entusiasmante? Il momento più difficile è stato sul set quando magari nella stessa giornata bisognava avere due emozioni differenti. Magari di una giornata inizialmente le prime scene dovevi avere un carattere felice, entusiasmante e poi magari andrei a finire sempre nella stessa giornata ad avere un carattere molto più chiuso, più triste. E quello è molto difficile, gestire il carattere ecco. Che effetto fa rivedersi sul grande schermo? È un bel effetto, è sinceramente anche emozionante. Non è la prima volta che vedo Balling, però ogni volta che lo vedo è sempre un'emozione unica. Nel tuo futuro passa ancora il cinema come uno dei primi obiettivi? Come ti ho detto è un sogno nel cassetto a me lavorare per la cinematografia, quindi penso proprio di sì.